buongiorno popolo stamattina cominciamo direttamente al grande fratello affonso signorini di ragazzi buongiorno ma io stamattina tengo l'offerta falsa peppe vieni subito da me vieni ma cominciamo così rughino e merluzzi bello vivi 2,50 kg solo 2,50 merluzzi per bambini 2,50 kg fate qua sti gamberetti vieni a me peppe vieni qua gamberi bianchi vivi 2,50 kg peppe e tengo per tutto qua 2,50 euro solo per oggi peppe offerta falsa ripetti vivi 6,99 kg peppe prendi la provenienza sardegna 6,99 kg il carallo di mare devi vedere gli occhi riprendi 6,50 euro un po' di sardegna 13 euro seppi è 11,50 euro riprendi questo spettacolo semmo è trovato robinuto e scambio riprendi peppe guarda qua guarda lo spettacolo che tengo per tutto qua devi solo riprendere peppe ti vado a rifare gli occhi peppe guarda qua sti buppo qua guarda che spettacolo guarda sti tre gli scogli ti rughino all'uno peppe riprendi belluzzi i palangari ti riempi quello di amo guarda peppe riprendi 6,99 kg guarda che spettacolo peppe andiamo prima a qua ti facciamo prima il metto manco stamattina vieni con me sali su ma sali guarda questi totani fuocati ti riempi un po' delle migliori ti riempi seppi i locali ancora viva ti riempi fatti una telefonata guarda peppe pronto carmela non riattaccare ti riempi riprendi il mare ti riempi il mare ti riempi fanno fai i pannelli tutto il professore sono asciuto peppe con il pastore ha il tuo telefonino guarda qua ti scamboni locali riprendi i gamberoni rossi scorfani striglia di scoglio i gamberoni ancora più rossi ti riempi guarda qua che spettacolo i scannici locali guarda go go san pietro locali riprendi questi san pietro locali guarda gli occhi peppe spiglora di mare scorfani vivi ricciole locali pezzogne mamma mia e chi ne ha più ne metti vieni con me e che non si affranisce male vieni peppe vieni guarda belluzzi ancora panca calamari gamberi rossi 10 euro a kg triglia di scoglio guarda come sono belli questi triglia di scoglio riprendi riprendi il mare il colore devi riprendere guarda qua peppe con colore riprendi guarda seppia vive riprendi peppe da vicino ti voglio guarda locali sardegna riprendi etichetta provenienza totale 6 euro e 50 guarda qua che dire ho fatto dolce sodio alle 12 faranza 8 euro scampi 6 euro e 99 gamberoni accenditi 8 euro e 99 fiscatrice guarda il capello riprendi peppe andiamo a prendersi belluzzi guarda il capello un pochine belluzzi 2 euro e 50 sei mai visto non sei mai visto guarda peppe 2 euro e 50 kg belluzzi prendi il colore prendi l'argento 2 euro e 50 kg solo per rocci 2 euro e 50 polpizze 6 euro e 50 su più progetti vieni a prendi fate stare sul pochino dei pesci 5 euro e 99 pochino calamari 9 euro e 99 gamberi 2 euro e 50 peppe per tutti quanti ti ho pochino di benzina 2 euro e 50 kg pulpo 6 euro e savariel 1 euro misto 1 euro mazzangoli 8 e 99 spiega la rata 5 e 99 pochino che bello sempre tiene di maruzziro ti ho detto i maruzziro di contro la team ti ho detto 6 e 99 terlino paesano 4 e 99 rupine 3 e 50 offerta pazza peppe riprendi vangolo ai giganti solo per oggi 7 e 50 kg poi ti senti che vi fanno anche il canone di Trening tutti gli uomini di Pesce e Spadade sempre l'ossine 4 euro e 5 euro a paghe dopo aver 3 minuti si finisce male questa mani di Pesce e Spadade facemmi fino a parlare vieni adesso con me peppe facciamo rispettare vieni sotto la teoria facciamo rispettare Un po' diete se è un arrogino per tutto un anno e aspettiamo sempre super affetto un bacio da robin Vecco, vado a fare molto, vado a fare molto